Hazel non era fiera di piangere, ma dopo il crollo della galleria frignò e urlò come una bambina di due anni in preda ai capricci. Non riusciva a rimuovere le macerie che separavano lei e Leo dagli altri. Se la terra si fosse spostata di nuovo, l'intera struttura rischiava di crollargli in testa. Eppure batte i pugni contro le pietre e gridò insulti che le avrebbero procurato una bella lavata di bocca col sapone all'Accademia Sant'Agnese. Leo la fissava mutolito, a occhi sgranati. Non si stava comportando in modo leale con lui. L'ultima volta che si erano ritrovati soli insieme, lo aveva trasportato nel suo passato e gli aveva mostrato Sammy, bisnonno di Leo, nonché suo primo ragazzo. Lo aveva caricato di un fardello emotivo di cui non aveva bisogno, confondendolo al punto che per poco non si erano fatti ammazzare da un mostro gamberetto gigante. E adesso eccoli là, di nuovo soli, mentre i loro amici magari stavano morendo per mano di un esercito di mostri. E lei aveva una crisi di nervi. Scusa. Hazel si asciugò le lacrime. Ma no, figurati. Leo si strinse nelle spalle. Pure io ai miei tempi ho attaccato diversi sassi. Hazel deglutì a fatica. Frank... Eh... Frank gianga parecchie carte da giocare. Leo l'aiutò a rimettersi in piedi. Probabilmente si trasformerà in un canguro e farà qualche mossa di jiu-jitsu contro quelle brutte facce. Nonostante il panico che le montava dentro, Hazel sapeva che aveva ragione lui. Frank e gli altri non erano indifesi. Avrebbero trovato il modo di cavarsela. La cosa migliore che loro due potevano fare era andare avanti. Osservò Leo. Aveva i capelli più lunghi e ispidi e la faccia più magra, per cui aveva perso un po' della sua aria da folletto e somigliava di più a uno di quegli elfi aggraziati delle fiabe. Soprattutto gli occhi erano diversi. Si spingevano sempre altrove, come se stesse cercando di localizzare qualcosa all'orizzonte. Scusa, ripete Hazel. Leo inarcò un sopracciglio. Per cosa? Per... Hazel fece un gesto con la mano, con aria inerme. Per tutto. Per aver pensato che tu fossi Sammy. Per averti dato delle speranze. Voglio dire, non era mia intenzione, ma se l'ho... Ehi! Leo le strinse forte la mano, ma Hazel non percepì niente di romantico in quel gesto. Le macchine sono fatte per funzionare. E... cosa? Secondo me, l'universo fondamentalmente è come una macchina. Non so chi l'abbia costruito, se siano state le parche, gli dèi, un dio con la D maiuscola o quel che è. Ma quasi sempre, la macchina dell'universo avanza scoppiettando nella direzione in cui deve andare. Certo, si rompono dei pezzetti e la roba si guasta di tanto in tanto, ma per lo più le cose succedono per una ragione. Come il fatto che io e te ci siamo incontrati. Hazel era stupita. Leo Valdez, sei un filosofo. Ma che sono soltanto un meccanico. Ma suppongo che il mio bisabuelo Sammy sapesse il fatto suo. Ti ha lasciato andare, Hazel. Il mio compito è dirti che è giusto così. Tu e Frank, siete belli insieme. Supereremo tutti questa prova. Spero che voi due avrete l'opportunità di essere felici. E poi... Jung non riuscirebbe neanche ad allacciarsi le scarpe senza il tuo aiuto. Questa è una cattiveria, lo rimproverò Hazel, ma ebbe la sensazione che qualcosa si stesse sciogliendo dentro di lei. Un nodo di tensione che si portava dietro da settimane. Leo era davvero cambiato e Hazel cominciava a pensare di aver trovato un buon amico. Cosa ti è successo quando eri da solo? Gli domandò. Chi hai incontrato? Lui distolse lo sguardo. È una lunga storia. Un giorno te la racconterò, ma sto ancora aspettando di capire come andrà a finire. L'universo è una macchina, commentò Hazel. Quindi andrà bene. Speriamo. Basta che non sia una delle tue macchine, aggiunse Hazel. Perché non fanno mai quello che dovrebbero. Eh già, ah ah. Leo evocò il fuoco in una mano. Da che parte andiamo, miss sottoterra? Hazel scrutò il sentiero davanti a loro. A una decina di metri, la galleria si divideva in quattro arterie più piccole, tutte uguali. Ma quella sulla sinistra emanava freddo. Di là, decise la figlia di Plutone. Sembra la più pericolosa. Mi hai convinto, fece Leo. E cominciarono a scendere. Davanti alla prima arcata, la donna o la gale li raggiunse. Si arrampicò velocemente sul corpo di Hazel e le si accovacciò intorno al collo, emettendo un verso acuto e stizzito, come a dire, dove sei stata? Sei in ritardo? Oh no, ancora quella specie di puzzola, si lamentò Leo. Se ne molla una in uno spazio ristretto come questo, con il mio fuoco esploderemo. Gail squittì un'offesa da donnola. Hazel li mise a tacere entrambi. Riusciva a percepire la galleria davanti, che digradava dolcemente per un centinaio di metri e poi si apriva formando un'ampia sala. In quella sala c'era una presenza. Fredda, pesante, potente. Hazel non provava una cosa del genere da quando era entrata in quella grotta in Alaska. La grotta in cui Geal aveva costretta a ressuscitare Porfirio, il re dei giganti. All'epoca era riuscita a contrastare i piani della dea, ma aveva dovuto demolire la grotta, sacrificando la propria vita e quella della madre. Non moriva dalla voglia di ripetere l'esperienza. «Leo, preparati!» sussurrò. «Ci stiamo avvicinando». «Avicinando a cosa?» «Una voce femminile che giò lungo il corridoio». «A me!» Hazel fu travolta da un'ondata di nausea talmente forte che le cedettero le ginocchia. Il mondo intero si spostò. Il suo senso di orientamento, di solito infallibile sottoterra, non funzionava più. I due semidei avevano la sensazione di essere fermi, ma all'improvviso si ritrovarono cento metri più avanti all'ingresso della sala. «Benvenuti!» disse la voce. «Attendevo con impazienza il vostro arrivo!» Con lo sguardo, Hazel perlustrò la grotta. Non riuscì a vedere chi parlava. La stanza le ricordò il Pantheon, a parte l'arredamento in stile oltretomba. Sulle pareti di Ossidiana erano incise scene di morte, vittime della peste caduti in battaglia, sale della tortura con scheletri appesi in gabbie di ferro. Il tutto impreziosito di gemme, che rendevano in qualche modo le scene ancora più spaventose. Come nel Pantheon, il tetto a cupola era formato da pannelli quadrati tipo waffle incassati l'uno nell'altro, solo che ogni pannello era una lapide con iscrizioni in greco antico. Hazel si domandò se ci fossero dei corpi sepolti dietro. Con i suoi sensi sotterranei fuori chiuso non era sicura. Non vide altre uscite. Alla sommità del soffitto, dove nel Pantheon c'era il lucernaio, cintillava un cerchio di pietra nerissima, come per sottolineare che non c'era nessuna via d'uscita da lì. Niente cielo, soltanto tenebre. Spostò gli occhi al centro della stanza. Eh sì, borbottò Leo. Quelle sono porte, sì. A una quindicina di metri di distanza, in totale solitudine, si ergevano le porte di un ascensore, con i pannelli scolpiti in argento e ferro. I led di catene correvano sui due lati, ancorando la struttura a grossi ganci sul pavimento. La zona intorno alle porte era cosparsa di detriti neri. Con una sensazione di rabbia opprimente, Hazel si rese conto che un tempo lì si trovava un antico altare di Ade. Era stato distrutto per fare spazio alle porte della morte. «Dove sei?» gridò. «Non mi vedi?» la schernì la voce. «Credevo che Ecate ti avesse scelto per le tue capacità!» Hazel si sentì torcere le budella per un altro attacco di nausea. Sulla sua spalla, Gale squittì e liberò una delle sue puzzette, cosa che non semplificò certo la situazione. All'improvviso, puntini scuri presero a danzare davanti agli occhi di Hazel. Tentò di mandarli via battendo le ciglia, ma si fecero solo più scuri e si consolidarono in una sagoma nebulosa alta sei metri che si stagliava accanto alle porte della morte. Il gigante clizio era avvolto da un manto di fumo nero, proprio come Hazel lo aveva visto nella visione all'incrocio di Ecate. Adesso, però, riusciva a distinguerne fiocamente la forma. Gambe di drago con squame color cenere, un enorme busto umanoide racchiuso in un'armatura di ferro dell'ostige, lunghe trecce che sembravano fatte di fumo. Aveva la carnagione scura come quella di Thanatos. Hazel lo sapeva, visto che lo aveva incontrato di persona. Gli occhi scintillavano freddi come diamanti. Era disarmato, ma questo non lo rendeva meno terrificante. Leo fischiò. «Sai, clizio, per essere così grande e grosso hai una bellissima voce!» «Idiota!» similò la donna. A metà strada fra Hazel e il gigante, l'aria luccicò e apparve la maga. Indossava un'elegante veste in tessuta d'oro senza maniche e aveva i capelli scuri raccolti in un alto cono e tra punti di diamanti esmeraldi. Al collo portava un pendente a forma di labirinto, su un filo incastonato di rubini che a Hazel sembrarono gocce di sangue cristallizzato. La donna era di una bellezza regale senza tempo, come una statua che si può ammirare ma non amare. Gli occhi luccicavano malvagi. «Pasifae!» disse Hazel. La donna inclinò la testa. «Mia cara Hazel Levec!» «Leo tossì! Voi due vi conoscete? Della serie «Compagni degli inferi» oppure «Taci sciocco!» La voce di Pasifae era lieve, ma carica di astio. «Non mi servono i semi dei maschi, sempre così pieni di sé, spacciati e distruttivi!» «Ehi, Bella! Io non distruggo un bel niente!» protestò Leo. «Sono mi hanno procurato altro che guai!» «Dedalo! Cioè, il vero Dedalo!» Leo sbatte le palpebre. «Beh, ma allora dovresti sapere tutto di noi stagnini! Noi preferiamo aggiustare e costruire le cose! E di tanto in tanto ci dilettiamo a cacciare pezzi di tela cerata in bocca alle signore maleducate!» Leo! Hazel gli mise un braccio sul petto. Aveva la sensazione che la maga lo avrebbe trasformato in una qualche creatura sgradevole, se lui non avesse chiuso la bocca. «Me ne occupo io, ok?» «Dai retta alla tua amica! Fai il bravo e lascia parlare noi donne!» Pasifae si mise a camminare davanti a loro, studiando Hazel, con occhi così carichi di odio che alla ragazza si accapponò la pelle. La maga emanava potere come una fornace emana calore. Aveva un'espressione sconcertante e stranamente familiare. In qualche modo, però, Hazel era ancora più spaventata da Clizio. Il gigante se ne stava sullo sfondo, silenzioso e immobile, tranne per il fumo scuro che gli sgorgava dal corpo e gli si ammassava intorno ai piedi. Era lui la gelida presenza che Hazel aveva percepito prima, come un enorme deposito di ossidiana, impossibile da spostare perfino per lei. Un essere potente, indistruttibile e del tutto privo di emozioni. «Il tuo... il tuo amico non parla molto», notò la figlia di Plutone. Pasifae si girò a guardare il gigante e tirò su col naso sdegnata. «Prega che rimanga zitto, mia cara!» «Gea mi ha concesso il piacere di trattare con te! Ma Clizio è la mia... assicurazione!» «Detto, frate e me, maghe sorelle, credo che sia qui anche per tenere a bada i miei poteri! Nel caso mi dimentichi gli ordini della padrona!» «Gea è attenta a queste cose!» Eiselebbe la tentazione di precisare che lei non era una maga. Non le interessava sapere come Pasifae avesse intenzione di trattare con loro, né come il gigante tenesse a bada la sua magia. Ma raddrizzò la schiena e tentò di apparire sicura. «Qualunque cosa tu stia progettando non funzionerà», disse. «Abbiamo distrutto tutti i mostri che Gea ha messo sul nostro cammino! Se sei furba, ti toglierai di mezzo!» La donna laghe il digrignò i denti in segno di approvazione. Ma Pasifae non ne parve colpita. «Non sembri un granché», riflette la maga. «Ma d'altro canto con voi semidei è sempre così!» «Mio marito Minosse, re di Creta, era figlio di Zeus. Non lo si sarebbe mai detto a guardarlo. Era mingerlino quasi come quello là!» Agitò la mano verso Leo. «Cavoli, Minosse doveva averne combinata una grossa per meritarsi una come te!» bofonchiò Leo. Pasifae dilatò le narici. «Ah, non puoi neppure immaginarlo! Era troppo orgoglioso per rendere i sacrifici richiesti a Poseidone! E gli dèi hanno punito me per la sua arroganza!» «Il Minotauro!» si rivoltante e grottesca che lei si era sempre tappata le orecchie quando la raccontavano al Campo Giove. Pasifae era stata condannata a innamorarsi del toro preferito di suo marito. Ne aveva dato alla luce il Minotauro. Metà uomo, metà toro. Solo in quel momento, mentre la maga la guardava con occhi truci, la ragazza capì perché la sua espressione le era così familiare. Nel suo sguardo c'erano la stessa amarezza e lo stesso odio che a volte Hazel aveva visto in quello della propria madre. Nei suoi momenti peggiori, Marie Levesque la guardava come se fosse una figlia mostruosa, una maledizione degli dèi, la fonte di tutti i suoi guai. Era per questo che Hazel non sopportava la storia del Minotauro, non solo per la visione repellente di Pasifae insieme al toro, ma per l'idea che un figlio, qualunque figlio, potesse essere ritenuto un mostro, una punizione per i genitori, un essere da rinchiudere e da detestare. A Hazel il Minotauro era sempre sembrato la vittima della storia. «Sì, la mia ignominia era insopportabile», disse Pasifae. «Dopo che mio figlio nacque e fu rinchiuso nel labirinto. Minosse si rifiutò di avere più a che fare con me. Sosteneva che gli avevo rovinato la reputazione. E sai cos'è accaduto a Minosse e Hazel Levesque? Per i suoi crimini e il suo orgoglio? È stato premiato. È stato nominato giudice dei morti negli inferi, come se avesse qualche diritto di giudicare gli altri. È stato Ade a dargli l'incarico. tuo padre. Plutone a dire il vero. Irrilevante. Pasifae soghignò. È per questo che odio i semi dèi quanto gli dèi. Zè ha promesso a me e ogni tuo compagno che sopravvivrà alla guerra, perché io possa guardarlo morire lentamente nel mio nuovo regno. Vorrei solo avere più tempo per torturare voi due anime come si conviene. Maimè! Al centro della stanza, le porte della morte misero un allegro scampanellio. Il pulsante verde con la freccia verso l'alto, sul lato destro, cominciò a lampeggiare. Le catene tremarono. Visto? Pasifae scrollò le spalle, come per scusarsi. Le porte sono in funzione. Dodici minuti. E si apriranno. Le viscere di Hazel tremarono quasi quanto le catene. Altri giganti? Per fortuna no, rispose la maga. Sono tutti già piazzati, di nuovo nel mondo dei mortali. Appostati per l'attacco finale. Pasifae fece un sorriso freddo. No, immagino che le porte siano utilizzate da qualcun altro. Qualcuno privo di autorizzazione. Leo si spostò lentamente in avanti. Del fumo gli fuoriuscì dai pugni. Persia Annabeth! Hazel non riuscì a parlare. Non capiva se il nodo alla gola l'era venuto per la gioia o per la frustrazione. Se i loro amici ce l'avevano fatta. Se fossero davvero apparsi di lì a dodici minuti. No, non preoccupatevi. Pasifae agitò una mano con non curanza. Se ne occuperà Clizio. Vedi, quando suonerà di nuovo il campanello, qualcuno dal nostro versante dovrà premere il pulsante con la freccia verso l'alto. Altrimenti le porte non riusciranno ad aprirsi. E chiunque ci sia dentro... Puff! Sparito! O forse Clizio li farà uscire e se ne occuperà personalmente. Questo dipende da voi. Eisel aveva un sapore metallico in bocca. Non voleva farlo, ma doveva chiederlo. In che modo dipende da noi di preciso? Beh, è ovvio. Ci serve solo una coppia di semi dei vivi, rispose Pasifae. I due fortunati saranno portati ad Atene e sacrificati a Gea per la festa della speranza. È ovvio, mormorò Leo. Allora, sarete voi due o i vostri amici nell'ascensore? La maga spalancò le mani. Vediamo chi sarà ancora vivo fra dodici, anzi undici minuti ormai. La grotta si dissolse nelle tenebre.